Abbiamo atteso questo incontro da moltissimo tempo, ormai è da due mesi che la città è sotto scacco di questi delinquenti che aggrediscono le persone, che spaccano le vetrine, spaccano le macchine. A proposito del dilagante fenomeno giornaliero, direi, delle spaccate, si è riunita questa mattina in prefettura, in via Giacomini, il prefetto con le varie associazioni di categoria, la questura, per fare il punto della situazione. E' soddisfatto di questo incontro? Di cosa è venuto fuori? Siamo stati due ore e mezzo, ma non sono assolutamente soddisfatto perché io mi aspettavo, soprattutto in prospettiva delle eminenti festività, che ci fosse una reazione adeguata all'emergenza che stiamo vivendo e che tutti voi, giornali, telegiornali, non fate altro che raccontare tutti i giorni. Invece, al di là dell'impegno nostro, categorie, Camera di Commercio, Fondazione e Cassa di Risparmio, di aiutare un po' quelli che magari non sono ancora dotati di adeguati sistemi di sicurezza o vetri antisfondamento, quindi di autodifesa e che li aiuteremo in questa direzione, non abbiamo semplicemente percepito una reazione adeguata delle parti del prefetto rispetto al presidio di un territorio che ha bisogno di presenza. Di ricordo che mentre stavamo lì, altri cinque spaccate queste notte, quindi ero rimasto a quattro e invece aggiornamento a cinque, semplicemente non c'è una reazione con uomini, ma si rimanda il tutto a quando verranno dei rinforzi che poi ci dicono che saranno formati, saranno addestrati, quindi noi dobbiamo convivere intanto con questa situazione avvilente, perché noi cominciamo a avere le nostre ragazze che non vogliono venire più la sera a chiudere. Ecco, qualcuno ha detto una provocazione, dormiremo nei nostri negozi a questo punto? Ognuno sta affrontando il fenomeno come la ritiene, perché quando succedono le stesse cose, nei stessi luoghi, nelle stesse ore, è chiaro che chi può, chi è organizzato sta dormendo dentro. Ecco, lei si era fatto fra l'altro portatore della sua categoria, di tante persone che le hanno chiesto appunto di dire al prefetto le cose che non vanno, ma invece ha profonda delusione da questo incontro. Io ho provato semplicemente a rappresentarlo alle istituzioni di cui non ritengo di aver avuto l'adeguato riscontro, e quindi devo dire che oggi io non mi sento rappresentato nelle mie difficoltà, nelle mie angosce, ma ripeto, di chi come me lavora, opera e vive in questa città. Speriamo che succeda qualcosa.